ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed eccoci qua con il primo video dedicato alla raccolta panini catar 2022 partiamo subito fortissimo ragazzi lo starter pack della collezione e un altro paio di prodotti made in danimarca ecco qui nordic edition nordic edition e anche lo starter pack è di quelli importanti starter pack nordic edition prima di partire con questo spacchettamento ragazzi vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video le novità che porterò sul canale e soprattutto ragazzi schiacciate un bellac a questo video a questo punto direi di fare un po di spazio e partire con l'unboxing in questo video ci andremo ad aprire questo starter pack allora all'interno c'è il classico raccoglitore anche questo è un'edizione speciale l'edizione nordica con la guida e la game board ben tre pacchetti e tre card in edizione limitata a questo punto direi di andare ad aprirci lo starter allora partiamo subito abbiamo tre pacchetti della raccolta sono i nostri primi tre pacchetti eccoli qui abbiamo tre artwork diversi e già nella checklist dietro vediamo la rarità sono incluse le edizioni nordic infatti in questa edizione nordic abbiamo 18 carte extra che però sono numerate quindi ragazzi fanno parte a tutti gli effetti della collezione ci sono le 9 nordic gold che si trovano uno ogni tre pacchetti ovviamente sempre questi pacchetti con la scritta nordic e poi ci sono 9 carte nordic world la cui rarità è un ogni 5 pacchetti ovviamente rarità non importantissime il problema è andare a trovare queste bustine tre pacchetti ce li apriamo tra poco abbiamo il campo da gioco anche questo marcato nordic e classico campo da gioco le tre carte limited andiamo a vedere subito cosa abbiamo trovato particolarità di questo starter ragazzi non si trovano mai le stesse carte in edizione limitata infatti noi ne abbiamo trovate ben tre e sono joao felix la carta di pier emil hoiberg e lionel messi ce l'andiamo a guardare così vediamo un pochino se c'è qualcosa di particolare ovviamente parte con tutte le regole del gioco che ci interessano poco abbiamo il numero totale delle carte abbiamo 232 carte hero 64 contenders e poi le carte speciali abbiamo già imparato a conoscere queste carte abbiamo visto qualche video in giro ci sono 8 contender teams 29 sono i team crest sarebbero gli stemmi delle nazionali 54 carte fans favorite e poi delle carte fantastiche come le titans le magician e le gold machine 18 carte per ogni tipologia queste sono carte abbastanza comuni hanno un livello qui vedete con due stelline poi abbiamo le carte un po più importanti sono le carte gold e sono le 9 top keeper e le 18 carte game changers altre carte più rare livello 4 di 6 sono le 9 carte legend e le 9 carte rookies abbiamo giocatori leggendari e altri 9 giocatori all'esordio passiamo alle carte più importanti sono le rare infatti le top master sono considerate livello 5 di 6 quindi sono le 8 top master e la carta invincibile è considerata extra rara infatti si trova una ogni 55 pacchetti in questa guida eccole qua andiamo a vedere anche l'artwork delle carte speciali dell'edizione nordic infatti ci sono le danish dynamite per l'edizione danese sono 9 carte speciali con rarità 3 e 9 carte jewels sono le carte delle stelle mondiali vediamo qui per esempio hominson hanno una rarità 4 di 6 sono 18 quindi le carte speciali nordic e poi abbiamo altre sezioni per esempio queste dedicate alle limited e a tutti i prodotti dell'adrenaline catar 2022 world questo è uno dei prodotti più interessanti sicuramente il gift box nordic edition abbiamo ben 16 sono 3 mega team e 3 poche team l'xxl maxi blister eccolo qui anche questo è un'esclusiva nordica e altra fantastica novità eccolo qui anche per adrenaline catar 2022 uscirà il calendario dell'avvento 16 pacchetti con all'interno 4 carte e ben 9 carte limited edition da trovare in questo calendario quindi quest'anno avremo una serie infinita di calendari all'avvento c'è questo quello del nostro campionato dell'adrenaline calciatori c'è il calendario dell'avvento della panini adrenaline premier league e c'è anche il calendario dell'avvento delle match attacks 2022 23 non ci sono altre cose che ci interessano c'è la checklist in grande che poi ritroviamo anche nel raccoglitore raccoglitori con i numeretti da attaccare eccola qua la checklist davanti e dietro per fortuna binder non danneggiato mettiamo il raccoglitore da parte ci andiamo ad aprire anche i tre pacchetti che abbiamo trovato all'interno di questo starter allora partiamo dalle carte comuni abbiamo un giocatore dell'arabia saudita al hamri abbiamo akimi per il marocco sar per il senegal eden azar poi ci sono le carte rare abbiamo dopo il codice la game changer di bruno fernandez eccola qui gold poi abbiamo la fans favorite di suarez la team cresce ancora dell'arabia saudita e la goal machine di asmon dell'iran veramente molto belle queste carte secondo pacchetto vediamo se magari ci va di fortuna e troviamo lionel messi base ma sempre lionel messi nello starter pack niente male mettiamo da parte abbiamo gabrielli jesus cesar montes per il messico ricardo rodriguez e estupignan per l'ecuador passiamo alle carte rare abbiamo un'altra carta gold top keeper e courtois poi abbiamo una carta contender è il perù e la carta magician di casri per la tunisia ultimo pacchettino e terminiamo il nostro video allora con plata per l'equador sar per il senegal al buracan ancora sabbia arabia saudita jorondon per il galles poi le carte rare sono quella di shaka per la svizzera game changer versione gold lo stemma dell'olanda e contender team c'è la scozia e magician e lucas pacchetta veramente degli artwork tanto diversi tra loro e veramente molto belli ragazzi termina qua questo video eccola qui la doppia carta di lionel messi in versione limited edition e in versione hero eccole qui fantastiche dallo starter pack versione nordic termina qua questo video ma come sempre prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video le novità che pubblicherò sul canale e soprattutto schiacciate un bel like al video detto questo dal primo video della raccolta fifa world cup catar 2022 è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao